Cantieri aperti su Via Giro a Bari annunciano nuovi arrivi, dopo Cucinelli prossimo taglio del nastro a fine mese. Jackerson, lì dove sorgeva il bagaglio, chiuso per crisi, i lavori saranno consegnati mercoledì prossimo. Pochi metri dopo, stesso isolato, aprirà forse il 7 dicembre Borrelli, total look da uomo, nei locali dell'agenzia Morfini, confinata al primo piano. Nuove aperture a dispetto di consumi e vendite in picchiata, ma per il commercio locale, tanto che la bottega di Luciano traslocherà sabato prossimo da Via Calefati in Via Giro, accanto ad Abitare, che per risparmiare ha rinunciato al secondo locale in cui aveva investito un anno fa. Trasferimento dettato dal caro affitto, ora pagherà 2.000 euro la metà. Investiamo sulla via pedonale prima di tutto e poi perché i costi sono inferiori nel locale dove ci trasferiamo. Affitti in Via Giro fino a 15.000 euro in Via Sparano, specie per le grandi catene, si superano anche i 60.000 euro. Eppure sono in arrivo, forse a febbraio, altre griffe al posto di Saracineschi e Abbassate, Massimo Dutti e Zara Home. Conviene aprire? Ai grandi marchi sì. Promuovono l'immagine a pari costo di un'uscita pubblicitaria nazionale e le vendite sono assicurate nei punti vendita in Italia e nel mondo, ma impoveriscono il territorio, commentano i commercianti baresi. Non è questione di concorrenza, la forza lavoro non aumenta. La stessa migra da un negozio all'altro, i guadagni reinvestiti per nuove aperture, ma non a Bari, sottraendo così reddito alla città. Gli unici a beneficiarne, i proprietari dei locali. Ma c'è qualche pugliese di Putignano che su Bari scommette. Salvo imprevisti, nel giorno di San Nicola taglierà il nastro Spops, negozio di frutta e verdura con annesso ristorante e bar nel cuore del Murattiano.